Perché ti arrotai la tavoletta vicina? Basta! Dai! Ecco voi l'albero finito Poi ho aggiunto le lucine atmosferiche Poi signori, signori, signori Poi vuoi un verme qua un... Dimmi che non mi stai filmando mentre mangio l'insalata Sì Che lei di pomeriggio ha fame e si mangia l'insalata Una capra Beh! Come fanno le capre? Beh Uguale sei Buonissimo Che naso hai? Oh! Signora, signora Madonna Beh! Signori eccoci qua benvenuti in una nuova avventura Quello è un piccolo fuoriscena L'alberello che avete già visto nel precedente video Se non l'avete visto andate velo a vedere Lei si sta mangiando l'insalata qua con i bermi Non lo so Con l'aceto che io odio l'aceto e sto morendo di puzza Ma non puzza l'aceto Per me puzza Tu puzzi Non ti la vinci i ciposilli Chi è? Chi è? Io sono Coco E io sono Fefe Ciao a tutti Sei trasformata in una capra Fefe Grazie 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 Magari si porta fortuna Sì Tantissima fortuna E buon appetito Ti faccio guarda ti puoi mangiare una brioche No no mangio un'insalatina che sto in linea Vabbè ci sta l'insalata Chi piace lo mangia Si hai aggiunto l'olio e non hai risolto niente Devi aggiungere più acqua Magari che usceva Vabbè dopo detta questa Cioè Che cosa? Io mangio Mangia Io farei un bel paninozzo con la salamella Però tra un po' mangiamo Oggi stasera mangiamo la pizza Mh Mh No Ma che tanto ci vuole La terra è la pianta qua che ci osserva Che carina Fateci caso al climatizzatore perchè è quello che sta lì fisso Un po' secca eh Oggi li abbiamo dato da bere dai Ne abbiamo un'altra qui Un po' di alcol vedi che si riprende Un'altra qui Qua c'è la terra morta E poi la mitica aloe Che carina Ciao Com'è che l'hai chiamata? Mitica aloe Hai detto aloe Aloe? No hai detto aloe E' uguale Sempre lei Ciao a tutti Ciao a tutti Ben ritrovati Ben ritrovati Quindi chiamiamolo così Se no l'altro termine è un po' volgare Qua abbiamo la capra Che faremo un esperimento Qua abbiamo il caprone Il caprone E nulla Oggi giornata come al solito In casa In casa Sì va bene Il tuo genno Il tuo italiano E nulla Andremo a fare un giochino Perciò ci metteremo la lavandina in testa a turno Abbiamo qua dei cerchietti E praticamente chi vince Che fa almeno un centro Vinceremo 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 E Niente Vi auguriamo buona visione E Speriamo che il video vi faccia divertire Una cosa devo dire Spalliciate Iscrivetevi se volete Commentate Seguiteci sulla pagina Instagram Seguiteci sulla pagina Instagram Eh Perché io gli dici Boh così ho la ridarola Eh Buona visione Dai Che finisci Dici io? No 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 Fai 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 Stai prendendo in giro? No. E' basso? Rimani così. Ma aspetta, ma prendi. Vai. E' iniziato un poco più largo. Si è iniziato con la difficoltà a prendere i piccoli. Quelli che ho preso in mano li sto usando. Guardi. Puoi prendere questi. Perchè ridi cosa puoi prendere? Sei bellissimo. Dai. Non ride. Ma come cacchio lanci? Non so. Ma perchè? Un po' perchè lanci di là? No. Per ti muovere. Come hai fatto? Se una domanda non vedi. Si. Come hai fatto Per te lo dimenticanthio? Come hai fatto il tuo figlio. Se una domanda non casesi. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ha potuto potuto fare. Ehm, va quasi? Ehi, va così. no vabbè evviva queste sono una delle nostre giornate quando non sappiamo proprio che cosa fare io ho inizio da figacione mi abbasso o rimango così? o rimane così bene sai che cade l'altro? quasi c'è real aia niente giungigliano dai faccio altri tiri io e un po' di fette giungigliano dobbiamo farlo insieme scusa e io non ce l'ho? eh fai niente adesso ne facciamo uno tipo io mi muovo e tu lo devi ascolta non sono riuscito a prendere quelle che sei normale che so faccio dai stai fermo ma sono povero ecco però cerca anche di prenderli perché se ti ritiro nell'occhio tu stai fermo ecco guardate spandini ma perchè? dai 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 ripetiti su cosa in testa che sei benissimo ah i miei capelli aiaiaiaiai eeeh eeeh mi posso saltare le spacchie le mattonelle ma che cosa dici? ma perchè ti ha mangiato un piattino di insalato e adesso sei... ah perchè sarai grassa? no perchè lo torino ma beh mi abbasso con la fortezza eh si ma perchè è sto modo di lanciare eeeh eeeh non provare eeeh 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 ok la seta oh quasi prende e fane altro dai fanno saltare che mi smacchie le mattonelle capra etta come non vale? come non vale? che falle dai avvicinati io con mezzo un passo ma cosa dici? si ma cosi? Praticamente l'hai messo dietro e neanche così ce l'hai fatta, perché ti arrotai davvero la tua bicicletta? Dai! Oh! E neanche da far prendere mai dentro, ragazzi! Ma non è che sono solo due o quattro pezzi, cinque pezzi, perciò te ne avevamo una ventina da raccogliere. Allora, aiaiaiaia! Mi fate l'azzo di capelli! Perché l'hai assomato, devi più m'allargare e poi approcciare. Sì, è l'elastico perché non abbiamo una cordicella, è stata una cosa un po' disata. E premettiamo che è uno con lavallini nuovo di pacca, di zecca. Comprato per sbaglio, in quanto non se ne trovava uno in casa e l'ho comprato. Poi una volta a pagato mi ha chiamato la mamma dicendo no, no, l'ho ritrovato. Vabbè, era un dettaglio quello. Avanzavo lì in casa. Bene. Sperma. Ok. Perché, perché, perché non riesco? Eh no, non vale! Eh? No, non vale! Ti sei abbassata! Eh? Eh, è una squadra che sei bassa. Ha ha ha! Che è una forza di gravità anche questo. Eh, passa un po' la testina. Oddio! Sperma! Risprovo! Sperma! Sperma! Io l'ho lanciato! Hai lanciato! Ci sei! Io l'ho lanciato! Ho vinto i 20 i a qualche trattamento! ma no hai vinto tu e te l'hai vinto no hai vinto anche tu che ti sei resa ridicola quindi una donna si rendesse così è ridicola ragazzi secondo me vince lei prego solo per essersi signori speriamo che il video vi sia piaciuto l'avventura si conclude qui ci vediamo alla prossima con una nuova pazzia un grosso saluto e abbraccio a tutti quanti da fefe e coco la capretta ciao